Blasoli, lei chiede alla Giunta regionale un cambio di passo nella gestione dell'emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la campagna vaccinale e anche la gestione dei tamponi. Perché? Perché la situazione è del tutto ferma e questo ostacola qualsiasi lotta al Covid. Guardate che quello che si sta verificando, che ricevo come segnalazione, è veramente assurdo. Ci sono persone positive che hanno fatto il tampone di controllo il 23 di dicembre, oggi siamo al 3 di gennaio e non hanno ancora avuto la risposta. Ci sono classi in cui ci sono stati degli alunni positivi, le classi hanno continuato a vivere la loro vita normale e sono state avvisate della quarantena dopo sette giorni di tempo. C'è una situazione degli hub vaccinali a Pescara che è scandalosa. Il sindaco qualche mese fa si vantava che televisioni cinesi e di altri paesi avessero preso Pescara a riferimento per la campagna vaccinale. Noi siamo stati in una città di 120.000 persone con tutto il nostro Interland che abbiamo avuto l'unico hub vaccinale a Città Sant'Angelo, dove mi arrivano foto questa mattina di persone prenotate alle 10 e mezza, che alle 10 e mezza sono in fila fuori, ancora dal centro, non si riescono neanche ad avvicinare ai locali. Pescara ha soltanto tre postazioni, una guerra si dice, stiamo combattendo una guerra, però questa guerra va in ferie nei prefestivi, andrà in ferie nei festivi, insomma non mi sembra una vera e propria guerra. Le persone che si prenotano per i vaccini vengono rinviate al 17-18 febbraio, cioè dopo la nuova vigenza del Green Pass che naturalmente è accorciato, quindi queste persone non sanno neanche cosa fare, vivono anche questa ulteriore forma di perplessità. senza parlare del vaccino dei ragazzi, che oggi non è possibile prenotare dopo, cioè siamo arrivati al 17 febbraio e non è possibile andare oltre. Questa è la situazione di Pescara, mentre tutte le altre ASL, questo va detto ad onor del velo, si stanno organizzando con degli open day, proprio per far recuperare queste persone che sono andate troppo in là con la prenotazione e devono andare a lavorare, voi sapete quello che potrebbe succedere di qui a qualche ora. Tutti si organizzano, l'ASL di Pescara dorme sul tracciamento che è completamente fermo, leggiamo delle scuse, ma a due anni di distanza dal Covid leggiamo le scuse, cioè sul tracciamento è la prima forma per combattere questo Covid. Vaccinazioni ferme, tamponi fermi, persone che non riescono neanche a sapere il risultato del tampone, questa è la situazione che si verifica nell'ASL di Pescara. Noi come consiglieri regionali, anche comunali, che ieri siamo usciti con questa nota, chiediamo all'ASL di darsi una sonora svegliata, perché così non si può più andare avanti.